Con una settimana di anticipo rispetto alle scuole e per 735 bambini pistoiesi si sono riaperte le porte dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. Una ripartenza preceduta, spiega Palazzo di Giano, da un lavoro con AS, le istituti, servizi di trasporto e ristorazione per definire tutti i dettagli per il ritorno dei piccoli nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Per le menze sono oltre 5.500 i ragazzi iscritti tra scuole comunali ed istituti comprensivi. Nelle nostre scuole e quelle comunali inizieranno fin da subito, mentre le scuole statali, e abbiamo lasciato la decisione ai comprensivi, quindi alle dirigenti scolastiche, ci hanno comunicato che tutte partiranno, secondo la comunicazione che ci hanno fatto stamani, il 5 di ottobre. Tra le procedure adottate, la pulizia delle mani, dei tavoli, prima e dopo i pasti, la reazione dei locali e il distanziamento con l'uso della mascherina per gli insegnanti, collaboratori ed allievi, fatta eccezione naturalmente per i bambini sotto 6 anni ed il momento del pasto. Possiamo dire che tutti i bambini potranno tornare a menza in sicurezza. Per il trasporto scolastico sono 230 gli iscritti. Riusciamo a trasportare tutti i bambini che si sono iscritti. È stata lunga anche qui perché naturalmente non c'erano mai delle linee poi definitive, finalmente ora sono arrivate. Ci sono proprio gli ultimi aggiustamenti, però possiamo dire che anche i trasporti partiranno con l'accoglimento di tutti i bambini che si sono iscritti.